Tomba di Cleopatra, mistero risolto, scoperta epocale senza precedenti. Recentemente, un team di archeologi guidato da Kathleen Martinez, dell'Università di Santo Domingo, ha fatto una scoperta straordinaria presso l'antica città egiziana di Taposiris Magna. Hanno riportato alla luce un tunnel sotterraneo di notevole ampiezza e precisione geometrica, situato a 13 metri di profondità sotto il Tempio della città. Questo tunnel, lungo 1305 metri e alto 2 metri, attraversa la solida arenaria, ed è stato descritto come un miracolo geometrico per la sua ingegnosità costruttiva, paragonabile all'acquedotto di Opalino in Grecia, risalente al VI secolo anno corrente. La scoperta alimenta l'interesse per il mistero che circonda la tomba perduta di Cleopatra VII. Martinez, che dal 2004 conduce ricerche in questo ambito, ritiene che il tunnel possa offrire indizi significativi. Taposiris Magna, fondata da Ptolomeo II e venerata per il culto di Osiride e Iside, è stata a lungo associata alla figura di Cleopatra, come dimostrano le monete, e le statuette ritrovate che la raffigurano insieme ad Alessandro Magno. Nonostante l'assenza di prove dirette che collegano il tunnel alla tomba di Cleopatra, il sito continua a rivelare importanti scoperte, tra cui frammenti di ceramica e teste di alabastro. Queste arricchiscono la conoscenza dell'antica città e della sua importanza storica e culturale. La ricerca di Martinez potrebbe presto estendersi alle acque di Alessandria, seguendo le tracce storiche che indicano il luogo di sepoltura della regina. Questa ricerca non solo potrebbe gettare luce sulla fine di Cleopatra e Marco Antonio, ma anche fornire ulteriori dettagli su Taposiris Magna, testimoniando l'avanzata ingegneria e il ricco contesto culturale dell'epoca. La scoperta del tunnel sottolinea l'abilità e la maestria degli antichi ingegneri, e solleva nuove domande sull'utilizzo e la funzione delle strutture sotterranee nell'antico Egitto. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie Grazie